Salve ragazzi sono Castoro, io sono Procione e ben ritornati su Overcooked Allora dobbiamo farmare stelle perché 3 stelle ci servono, 2, 74, no, 2 stelle ci servono Quindi adesso farmiamo e poi dopo iniziamo l'episodio su quel quarto Va bene, ah qua ci sono i topi, madonna, no, te li ricordi dopo, i topi Aspetta, bocchiamo la roba a caso, ho messo i miei miei piatti, ah, me l'ho messo, me l'ho messo Bocchiamo la roba a caso e poi prendiamo a calci i topi, che bello, ah, yeee, no, non si sono fatti prendere a calci Ci l'abbiamo fatta, era 2,60, no, eh, vedi, oh, che cazzo No, aspetta, 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 no Ok, un'altra stella, questo, eh, questo che cos'è, ah, questo è qui, ah, questo è qui, ah, questo è figo, ah, questo è figo Ah, vado a sinistra, no, qual è? Ah, questo è qui Sopra e io sotto Vabbè, io attaglio roba Yihh, yes, yes Amma mia, che am CE, il 0, inizio di Lin Berlin No, sono caduto pure io Yeeeh 336, voglio Amma mia Siamo fortissimi Se stai zitto, ho fatto tutto io ok siamo andare qui e poi che lo spazio sicuro è brutto è che è stato così come quello che gira solo però vediamo di premere a shut up ok prima strategia si capisce un cazzo ogni vagone ha il suo perché se faccio così è tua nonna aiuto dove sono così fai girare e se gire se tocchi quell'altrazione che gira dall'altro lato proviamo sì sì insalata fai insalata e sta là sopra l'insalata come ciò che qua dai che in mezzo c'è tutta ricomincia che macello allora cosa ci serve pomodori gira tostano di qua ecco l'epoca insalata quasi sta un piatto i piatti consegna consegna e devo girare taglia il pomodoro no dove cazzo dietro l'insalata sta dai un attimo piatto 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 consegna abbiamo fatto tre stelle massica grazie a me sempre ma doveva tipo livello completato vai casetta cipolla il cipollone quando cipolla raccontaci una storia bentornati amici coraggiosi penso che ormai siete pronti avete dimostrato di essere una squadra formidabile ma adesso è arrivato il momento la bestia è tornata e adesso dovrete affrontare la sfida più grande non c'è un momento da perdere andiamo a salvare il mondo andiamo che dobbiamo fare adesso è la bestia penso un mio dio che il l'anguori sveglio che cazzo è vabbè ci sta polpettone ma va qua ci vuole il buzzurro dice di cui sono a più a feste davvero in schiaffa le bestegne filmato è lo stesso all'inizio infatti eccoci qua di nuovo la bestia si sta avvicinando dobbiamo fare qualcosa le vostre abilità sono migliorate i vostri coltelli affilati come arriviamo da poi saltiamo sì siamo gesù sono sicuro sicuro al 70 per cento che questa volta siete pronti è interessante 30 per cento e ma buongiorno quando è bello guardo ho fame mamma proprio mamma paolo 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 che vi aiuterà con le provviste il resto aspetta poi buona fortuna amici miei che significa vedere con le provviste buon forza si fa la cintra scuola ce lo porta lui la roba perché non abbiamo scorta dall'altra parte o merda no molto brutto come arriviamo dalla scuola così vado io dall'altro lato portami la roba d'ore imbecille e portami tu la roba sei andato avuto è infatti ma ci sono solo cosa per tagliare madonna paese a qualcuno però metti due di là io passo la roba passami il pomodoro c'è anche la canzone ciletico è riparte con le prese della cipolla i piatti piatti dove sono i piatti sono tutti già sporchi guarda la tuba e prendi piatti dai lavori che porto di merda che le sitori dove sta c'è si è morto ma sono cantucci ma il giorno dai ogni posto non ricominciamo è esatto buongiorno comunque secondo me sto coso dopo scompare e dobbiamo fare pure i panini perché dovete lasciare le ventole per la carne da imbecille incendi tutti i miei piatti li puoi portare vai 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 10 minuti 10 minuti non sei bene con la testa ok cambio di livello è sì secondo il mogul i panini sto cosa è o vedi quel meteorite è passato attraverso la struttura vabbè con merda ecco lo sapete che qua per chissà ok ok dove va della carne ma devi cambiare le ventole io lo devo mettere qua questa arrivando la carne vabbè la popette ma l'ultimo tanto non cade giusto ok io ti ho passato tutti i piatti che avevo insalata ce l'hai dito sono i palini e carne con la pronta ho preso fuoco la roba resta dall'altra parte aspetta io devo andare io devo andare io più vicino devi venire aiuto vedere più vicino e devo fare tutto il giro no c'è stato cosa non posso venire che prendi la prendi la prendi la prendi la ma io sono bloccato qua il cosa non mi fa passare il mio dio io che cazzo c'erro io aspetta in buio dove vado rispondo dirà perfetto ma io non posso andare da panino e carne dai e non lo posso fare aspetta mo torna di lato che cazzo vuoi ok meglio così la cara adesso devi scendere ok sta roba conserviamola qua può sempre servire una carne cotta non ci serve che qua questo è strano ok boh che cazzo dovevo fare non lo so che allora ci serve una pizza con ok pizza fai l'impasto che succede formaggio prenditi il formaggio non lo so facciamo insieme pizza formaggio fa il pomodoro giustamente poi fai fish and chip pure dobbiamo fare ma non ce l'abbiamo fish and chip come lo facciamo alla c'è ma quindi il pomodoro aspetta fate due cazzo sono ricordata da un piatto di sempre ha preso fuoco tutto dove sono le cinture passare nel settore da sopra ai buoni prima che cambia mi serve un piatto allora allora cosa serve ma sei coglione sei quando dove hai messo nel piatto solo la lo posso mettere queste dicevo ma che cazzo vuoi allora cosa ci serve fish and ah è tutto pronto dammi che è pronto ma devi ancora friggere se non mi devi piatti per togliere la roba allora riserva una pizza che il frattempo passami il piatto allora pizza con formaggio no formaggio ok pomodoro passami un pomodoro il pesce lo prendi e se me lo dai da dall'altra parte l'abbiamo non ce la facciamo col pesce giusto in tempo un minuto e 26 adesso penso che ritornano la roba tipo le cipolle se cose così no adesso è tutto visto cazzo è brutto faccio il primo e allora devi fare due pomodori e aspetta che sono l'altra parte io faccio la pizza ma dove cazzo stanno dove si deve tagliare sono tu c'è il taglio no stanno in mezzo i due taglieri vedi dai 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 8 secondi vabbè non ce la facciamo allora due secondi non ce la possiamo mai fare che succede che è successo non ne vediamo se l'abbiamo perso non lo so eccoci qua di nuovo no di nuovo basta ok riproviamo e vediamo se ci la facciamo mai nella vita fish and chips se questo è l'ultimo ce l'abbiamo fatta ci serve fish and chips l'insalata è mezz'ora sto coso madonna passala qua vai ce l'abbiamo fatta era del tè del tè del tè un po' del tè carita va bene per tutti i cavoli è piena la bestia è piena presto al riparo oh sto per scoppiare ma ci sono io e mezzo ma mi muovito in faccia ma c'è paraplegico vai si muovito pure in faccia ah non è scoppiata oh quel cook vabbè poi i crediti ma è cortissimo il suo gioco eh scusa che devi fare alla fine eh eh avremmo delle da competitive che è bello giusto può darsi dobbiamo trovare due bestie che giocano con noi finché altro altro i due controller dove cazzo li prendiamo vabbè ce l'abbiamo un altro Xbox One e uno PlayStation 4 ah vabbè eh no ripresi eh non si può schifare aspettiamo ci sarà il final segreto boh non credo beh ragazzi direi che Overcook è finito porteremo il dlc vedremo cosa contiene sì un prossimo episodio e quindi come al solito per ogni fine di serie ci vediamo al prossimo episodio ciao no il prossimo episodio eh il prossimo episodio ci vediamo al prossimo video ahahah